Grazie di essere qui con noi all'Officina della Bistecca! Qui presento la mia squadra! Martina e Luardo in cucina! Unito il nostro maestro di griglia! Andrea e Daniele, i nostri magici maestri di sala! E dopo la tazza e il carpaccio, ecco a voi la costata alla Fiorentina! Buon appetito! E ricordatevi sempre! Du bif, orla du bif!